è una canzone sulla partenza su un porto da dove uno parte magari l'archetipo del della partenza è quella di cristoforo colombo no invece qui non si va lontano nonostante dall'altra parte c'è un altro mondo c'è gente che si si nutre di alimenti della propria produzione e c'è una spiaggia che ti fa subito pensare a fellini no perché perché c'è un carro armato diretto verso la turchia c'è un chiosco a ruote deserto colpito dal vento ci sono dei paesi staccati dal mondo un polpo mi guarda attraverso una rete qualcuno dal nord con l'abito di seta se la nave mi porta attraverso il mare per coltivare la terra sedentario se la nave mi porta attraverso il mare per coltivare la terra sedentario